Chi è che compra? Centro di passaggio. Ma sono più uomini o più donne? Ma non c'è tanto, sono più uomini. Soprattutto con i bambini. In grande scuola qua per portare un simbolo a casa da maestra. O alla moglie magari. Magari alla moglie. E le donne invece comprano poco? Perché qualcuno ha proprio la vera, gradissima. E io gliela trovo anche io. Qualcuno anche se non ce la volete comprare. Mi sa la poter cattare perché soldi non ne ho. E quindi gliela trovo. Lei ha regalato la mimosa a sua moglie, a sua figlia? Sì, stamattina. E sono rimaste contente? Moltissimo. Senta, lei sa perché si festeggia questa festa? Sì, c'è anche per il lavoro. Non so, un gesto meraviglioso. La festa via da donne. Però le donne dovrebbero essere festeggiate tutti i giorni e rispettate, giusto? Senza ombra di dubbio. Perché la donna per la vena è sempre festeggiata, come stai dicendo. E io me ne ho posto. Non so, non so. Bisogna neanche darci valore, soprattutto tutti i giorni, come già detto prima. Grazie.